eccoci al rialto dopo una faticosissima pedalata dalla piazza grande come vedete siamo davanti allo storico cinema qui nei dintorni ora siamo affannati e vogliamo bere qualcosa entriamo ecco non vediamo l'ora di bere qualcosa non vediamo l'ora di setarci aspettare che inizi il film oggi che è venerdì allora prendo un caffè per favore come vedete non c'è nessuno non c'è servizio quindi rimandano per bere qualcosa tutta questa gente che vedete qua dietro se vuole bere qualcosa deve drecarsi fino alla stazione forse alcuni lo sanno già ma il film ma il cinema scusate chiude chiuderà per sempre ecco i segni di una scomparsa